Ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre in descrizione nel primo commento trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Video molto rapido in quanto voglio illustrarvi le novità per quanto riguarda il Dream Team di football 2023 che sono arrivate oggi. Ci sono nuovi giocatori che non sono nemmeno leggende, delle carte speciali chiamate giocatori epici, insomma davvero tanta roba ragazzi, adesso ve le farò vedere ma non solo perché ci sono anche altre novità. Prima di andare avanti invito iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi mi raccomando questa parte è importantissima, tra l'altro, tra l'altro mancano circa una trentina di iscritti per arrivare a 11.000, quindi vi chiedo una mano, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, aiutatemi ad arrivare a 11.000 iscritti entro qualche giorno. Molti di voi mi chiedono, Simo ma il Road to Glory non lo porti più? Sì lo porto, ho avuto un attimo da fare in questi giorni, però comunque vi ho portato altri video. Oggi esce il terzo episodio del Road to Glory, promesso, l'ho già registrato e montato. Non perdiamo tempo, fatte queste doverose premesse e andiamo subito a vedere le novità di oggi. Partiamo dalla cosa più interessante, diciamo, che poi tra l'altro forse è l'unica veramente interessante, ovvero questi giocatori epici che sbarcano in i football sarebbero delle leggende all'ennesima potenza, sarebbero delle leggende con più livelli, che si possono livellare di più e dovrebbero essere in teoria più forti delle leggende normali. Ma per la curiosità di provare un giocatore leggendario che non c'è mai stato fino adesso in i football e nemmeno in PES, se non erro, come giocatore leggendario, sarebbe bello pescare Wesley Snyder, ragazzi, non sarebbe male. Andiamo a vedere anche le statistiche di questi tre giocatori epici, perché non dobbiamo chiamare leggende, sono giocatori epici. Vediamo subito Mateus, è un mediano 83, non molto alto, non molto fisico, più dal comportamento offensivo, sì, c'ha anche il comportamento difensivo, ma secondo me ha la velocità che sarebbe lo scatto senza palla un po' troppo basso, e quindi secondo me gli andrebbe sicuramente uppata la velocità. La cosa bella comunque è che, prima ho detto che partono bassi di overalls, sì, ma non ho visto quanti livelli hanno, ad esempio questo ha 33 livelli, quindi potrebbe arrivare davvero a cifre altissime, adesso non so di preciso, però diciamo che di base così nel gioco non è un granché come carta, ma sicuramente maxandolo diventa una super carta, molto probabilmente. Anche se sicuramente si sentirà leggermente la mancanza di fisico, secondo me, perché è un po' troppo basso, di solito il mediano io lo preferisco un po' più roccioso, tranne Kanté, che Kanté è una cosa a parte, e vabbè. Vediamo Snyder che cosa ci dice, tre quartista ovviamente, comportamento offensivo un po' basso, è anche vero che c'ha 35 livelli ragazzi, quindi secondo me ci possiamo divertire a livellarlo. Io gli apperei il comportamento offensivo senz'altro, un po' il dribbling, la finalizzazione, l'accelerazione più che la velocità, ma anche un tocco alla velocità, un pochino la potenza di tiro. Insomma, queste sono le cose che farei. Ovviamente ci sono 35 livelli disponibili, quindi come già detto ci possiamo divertire. Bellissima carta quella di Snyder. Andiamo a vedere Bergkamp, che comunque è stata sempre una carticina decente in PES. Allora, 82 di overall di base, seconda punta, statistiche discrete, ma 38 livelli, quindi sicuramente anche in questo caso ci possiamo divertire. Io gli aumenterei l'accelerazione, la potenza di tiro, il comportamento offensivo, quindi il dribbling, passaggio raso terra un pochettino e ovviamente, se possibile, anche la finalizzazione. Controllo del corpo, anche un pochino basso, 70 però. Insomma, scegliete un po' voi in base al giocatore che vi serve, perché io vi ricordo sempre che in questo gioco, ragazzi, non c'è una cosa fissa per livellare i giocatori. Voi li dovete livellare non in base all'overall più alto che raggiunge, ma in base a cosa vi serve in campo. Cioè, se vi serve un giocatore che gioca in un certo modo, lo livellate in un certo modo. Se vi serve che gioca in un altro modo, perché magari utilizzate un altro modulo e avete uno stile di gioco che è dalla mano differente, lo livellate in un modo differente. Quindi non è che dovete per forza livellarlo tutti uguali per fargli prendere il massimo dell'overall, anche perché in questo gioco l'overall è abbastanza relativo. Non del tutto, cioè non è proprio da trascurare, ma in parte non dice sempre la verità all'overall. Comunque, livellatelo, fatelo crescere, ma ripeto, non vi fissate a fare le carte tutte identiche, a copiare tra virgolette come livellano gli altri, perché secondo me le carte vanno livellate in base a come si gioca. Queste sono le tre leggende, anzi, non chiamiamole leggende, i tre giocatori epici che sono usciti oggi per quanto riguarda l'Inter. Sono previsti anche giocatori epici per quanto riguarda il Milan, usciranno tra una settimana, giovedì, il prossimo giovedì, quindi aspettiamo intanto. Vi faccio vedere le altre novità. Ah, ragazzi, chiaramente, e questo ovviamente l'ho tralasciato, i tre giocatori epici sono buttati in un poll da 150 giocatori. Ovviamente una spacchettata costa 100 monite, che vi valgono quasi un euro. Per avere la certezza di beccarli tutti e tre, dovete spendere 150 euro. Molti di voi mi chiedono, Simo, ma se butto 80 euro, 70 euro, 50 euro, 30 euro, le prendo le leggende? Non si sa, potresti prendere una leggenda, due leggende, tre leggende, o zero leggende con 140 euro. E poi nell'ultima 10 euro delle becchie tutte e tre. Questo gioco è strano, io comunque, in questo caso, a meno che non avete le possibilità economiche per farlo, e proprio se lo volete fare e non ci volete rinunciare, non spacchettate le leggende, perché veramente è uno spreco di soldi. Solo e esclusivamente se proprio non potete farne a meno, allora fatelo. Ma non buttate soldi in questi pack, perché è davvero molto, molto difficile beccare la leggenda con meno di 50-60 euro. Lo so che adesso usciranno nei commenti quelli che dicono, eh, io ci ho messo 3 euro, le ho trovate tutte e tre. Lo so, c'hai una fortuna della madonna, il fratello. Che cosa ti devo dire? Cioè, però, la gente normale, diciamo, nella media, i giocatori con meno di 70-80 euro non trovi nulla. Poi, ripeto, se voi siete particolarmente fortunati, complimenti. Andiamo a vedere anche questi altri giocatori che hanno inserito. C'è Alan, che secondo me è tanta roba. Se non sbaglio, anzi, non sbaglio, sono praticamente certo, questi giocatori non si possono livellare. Infatti, non sbaglio. C'è Alan, c'è Pedri, c'è Roberto Firmino. Gli altri sono meno interessanti. Qui c'è Alberto, Odegaard. Sì, comunque, andiamo a vedere un attimo le statistiche di Pedri e Alan, che forse sono quelli più interessanti. Mazza, Alan, madonna! Che statistiche, ragazzi! Ah, peccato che non si può livellare, che altrimenti diventava un dio, diventava, vabbè. Pedri anche interessante, va bene, ok. Andiamo a vedere il resto. Ah, chiaramente, vabbè, avrei dovuto dirlo come prima cosa, però cambia poco. Andate in posta in arrivo e riscattate le scuse dell'amministratore, che sono arrivate 30.000 GP. E il bonus d'accesso, che cambia in base al giorno in cui accedete, quindi dipende se accedete tutti i giorni oppure no. Allora, ci sono dei nuovi eventi. C'è un evento Italian League, con un accordo al buio, che ti permette chiaramente di aprire i giocatori con all'interno Alan e Pedri, che sono usciti oggi. E' un evento contro il computer, quindi un evento offline, e praticamente il regolamento è questo qui. Vabbè, ci sono tutte le squadre che potete affrontare. 1.000 punti, 10.000 GP, 2.000 punti guadagnanti, 10.000 punti esperienza per 3, 3.000 punti l'accordo al buio, che vi dicevo, per aprire il pack con all'interno Alan speciale non livellabile, con all'interno Guti, no Guti, scusate, con all'interno Pedri e altri giocatori. Poi, non contenti, hanno aggiunto anche un altro evento, questa volta però uno contro uno, online, dove si vincono anche questa volta delle monete eFootball. 50 monete eFootball, ma non solo. Infatti, nella sfida 1, per la prima volta 10.000 GP, dalla seconda volta in poi 100 GP, sfida 2, la prima volta 30.000 GP e dalla seconda volta 100 GP, e sfida 3, eccole qui, che arrivano le 50 monete. Quindi, ragazzi, Konami mantiene la parola e continua a mettere 20, dove comunque si vincono delle monete. Poche monete, 50, ma magari se ne mette 20, di seguito così, insomma, si possono vincere un bel po' di monete. Basta mettersele da parte alla fine, eh, raga, è chiaro. Cioè, comunque, non dobbiamo sempre lamentarci, perché molti di voi si lamentavano, eh, Konami non metterà mai le monete in palio negli eventi, e invece le monete in palio negli eventi sono arrivate. Cosa vi aspettavate? 2.000 monete in palio? E no, quella si chiama beneficenza, si chiama carità. Konami non fa carità a mettere dei premi in palio, chiaramente. Per eventi gratuiti, cioè non è che voi dovete pagare per fare questo evento, quindi. Che cosa volete? Secondo me va bene così, a questo punto. Almeno come evento, eh, almeno è una cosa diversa. Sì, ci sono anche dei nuovi eventi partita autentica, se non sbaglio, quindi. Che si giocano non con la squadra del Dream Team, ma che si giocano appunto partita autentica, si giocano con le squadre normali. Sì, eccoli qua, due eventi, menù di caricamento lentissimo, mamma mia. Non carica nemmeno questa cosa, non carica niente, non ce la fa. Vabbè, durante questo evento, eccetera, eccetera, ecco qui le squadre, dedicato alla Liga Messicana, chiaramente. Prima volta 4.000 GP, seconda sfida, prima volta 10.000 GP, terza sfida 20.000 GP. Comunque, un bel bottino in GP. E ce n'è anche un altro dedicato alle nazionali, ragazzi. Sì. Prima volta, qua è con i gol, però, ragazzi. Dovete fare i gol, almeno un gol nella prima sfida, almeno due nella seconda, almeno tre nella terza. La prima volta 4.000 punti esperienzi, la seconda volta 10k, e la terza volta 20k GP. Ragazzi, non dovrei aver dimenticato nulla delle novità di oggi. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Fatemi sapere soprattutto se avete aperto o se aprirete i pack con all'interno i giocatori epici dell'Inter. E quindi, se li avete già aperti, fatemi sapere, ovviamente, se avete trovato qualcuno e chi avete trovato. Vediamo quanti di voi beccano Snyder. Io vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella, ragazzi! Ciao!